Il mio intervento di oggi mira ad attenzionare una problematica che ci sta un po' coinvolgendo e che cattura l'attenzione un po' di tutta la Sicilia e anche del sud Italia. Parlo della struttura per la Ionica che potrebbe, ci auguriamo che diventerà un modello di riferimento per il sud Italia e per l'area del Mediterraneo. Sicuramente in questo momento possiamo utilizzare soltanto il condizionale perché le perplessità o meglio gli interrogativi su questa struttura sono tanti e ce li poniamo quotidianamente, parlo per quanto mi riguarda e se lo pongono un po' tutti i nostri cittadini. Giusto per avere un'idea, la ITEM, la società che sta realizzando la struttura, ha ricevuto a fondo perduto dal governo Renzi 24 milioni di euro per la realizzazione dell'intera struttura a fronte di un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro. La presunta operazione potrà comportare, ma questo lo sappiamo un po' tutti, oltre 300 posti di lavoro, un'area di 68 mila metri quadri, un salone conferenza di 2.200 posti a sedere, 420 stanze che sono state o meglio potrebbero essere ristrutturate con una capienza raddoppiata a quella precedente, una pista di atterraggio per gli elicotteri, la realizzazione di una grande spa, ma parliamo di aspettative, parliamo di sogni, parliamo di anche speranze per la nostra città che potrebbero dare sicuramente questa struttura. Si parlava anche, mi ricordo, in un incontro dove fece un intervento proprio con la Mantia di porre le terme di Acirale come punta di eccellenza di questa struttura che a quel punto potrebbero certamente rappresentare l'eccellenza del nostro territorio. Le domande che mi pongo sono cosa stiamo facendo noi, se noi come amministrazione possiamo fare qualcosa, se ci sono delle pratiche in evase, se ci sono delle richieste alle quali noi non abbiamo ottemperato. E guardando un po' sui giornali, perché le nostre, parlo delle mie fonti, sono quelle, mi colpiva un dato, il 7 agosto 2014 la ITEM viene, o meglio, la struttura alberghera della Perla Ionica viene acquisita dalla ITEM, il giorno successivo viene chiusa l'operazione all'Italia da parte della società EITAD, compagnia aerea, che di fatto è controllata, tra virgolette, dallo Sceicco. E quindi questo la dice lunga sul ruolo che può avere Acirale in un contesto, non parlo nazionale, ma europeo. È una casualità, è un qualcosa che è capitato per caso, è una domanda, non per forza deve avere una risposta, ma certamente è un dato che può far riflettere, e può far nascere degli spunti di riflessione, un dato che fa riflettere oltremodo. Lo Sceicco possiede il 25% dell'Hilton, della struttura alberghera. L'Hilton sarebbe la struttura che dovrebbe prendere per 40 anni in gestione, perché la proprietà rimarrebbe sempre dello Sceicco, dovrebbe prendere in gestione la Perla Ionica. In passato cosa si è fatto da Acirale, giusto per andare un po' a ricostruire quello che si è fatto. A novembre del 2014 c'è stato un tavolo di concertazione tra la Mantia, che è il braccio destro di fatto della ITEM, assieme al sindaco Barbagallo, assieme ai sindacati. Si è dato come obiettivo prioritario quello di dare una centralità al nostro territorio, parliamo di lavoratori, parliamo anche di operatori economici, di attività commerciali che potevano fare da indotto, potevano supportare questa operazione. E da quello che si è avuto modo di sapere, la Mantia si congratulò con l'amministrazione locale, dicendo che ben 52 pareri riguardo alle relative pratiche erano stati assavoliti. Quindi mi fa ben pensare. Allo stesso tempo sembrava che tutto stesse per decollare. Nel luglio scorso venne il figlio dello Sceicco nel nostro territorio, accompagnato dalla Mantia, per verificare personalmente i lavori. e si parlò soltanto di un problema di perfezionamento burocratico per completare i lavori. Da diversi mesi il cantiere è fermo. E un dato che ci può fare riflettere, da attenzionare, è il seguente. La ITEM affida alla società Volteo Energie la realizzazione di alcuni lavori. Parliamo di lotti per circa 7 milioni di euro, che è lo stesso importo che viene acquisito come prima tranche dei pagamenti da Invitalia. Questo è un dato che appuriamo e verifichiamo dai giornali. E ritengo che noi come comune di Aciriale, visto che la Perlaione ricade sul nostro territorio, dovremmo saperne qualcosa in più. Ma soprattutto noi dobbiamo capire se ci sono degli aggiornamenti, se è il caso di convocare un tavolo tecnico con la Mantia stesso, o capire se noi possiamo ottemperare ad eventuali richieste che sono state in evasso. Non penso, ma è un problema, è una domanda che è legittimo porci dalla nostra parte e anche dai cittadini che, ripeto, giornalmente ci chiedono. È anche normale che da parte loro abbiano delle aspettative, perché un sistema così importante, non solo per la nostra terra, ma per tutto il Sud Italia, sicuramente è un qualcosa che potrebbe sicuramente interessare e essere un po' una possibilità di sviluppo per il nostro territorio. Un dato che mi ha fatto riflettere, ogni giorno lo sceicco può spendere un miliardo di euro cash. Parliamo di cifre certamente importanti, però sicuramente è doveroso da parte nostra capirne di più e avere maggiore informazione a riguardo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ferlito. La parola all'amministrazione, all'assessore Oliva. Prego. Grazie, signor Presidente. Ringrazio il consigliere Ferlito per le sue domande, le quali mi fanno tornare indietro di oltre cinque anni. Con esattezza mi fanno tornare all'ottobre del 2010, quando io, consigliere comunale, nell'aula consigliare di Piazza Duomo, feci un intervento durante una fase di interrogazione e interpellanze, proprio in merito a questo discorso della perla ionica. E feci quella domanda perché non mi spiegavo il motivo per cui, dal momento in cui la ITEM SRL, una società costituita presso la Camera di Commercio di Catania, e ITEM ha una sigla, significa Italia Emirati SRL, nel momento in cui, dal novembre del 2009, quando questa società si assegnò, forse il consigliere seminario si ricorda anche il mio intervento di allora, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che la società SRL aveva in quel momento un capitale sociale di 100.000 euro e in base a quello che doveva sorgere successivamente avrebbe movimentato una cifra che si sarebbe aggirata intorno a 100 milioni di euro. Questo ci ha fatto accendere una lampadina per cui abbiamo fatto le opportune ricerche. Io feci un intervento ben preciso in aula, non accusatorio, ma chiedevo delle spiegazioni perché? Perché nel momento in cui avvenne la gara d'asta e la ITEM se la assegnò, parliamo di una società unipersonale, dove a origine il socio unico era Halamed bin Hamed Halamed, sì, me le ricordo come se fosse ieri questo intervento fatto, lo potete andare a riprendere, aveva il 100% del capitale sociale. Ma guarda caso, pian piano, dal momento in cui si assegnò la gara d'asta, queste quote sociali venivano man mano cedute a società finanziarie con sede a Milano, altre società finanziarie e quant'altro. Quello che colpì il gruppo politico allora dell'MPA fu la questione di cui io facevo parte relativo al fatto che entro 90 giorni, avendo versato il 10% per partecipare all'asta, la società non saldava il rimanente 90%. Invece di saldare quel rimanente 90%, cosa fece la società? Fece rivivere una richiesta di sanatoria effettuata dalla fratelli Costanzo S.P.A., o meglio ancora dalla R.T.A., che era la proprietà vera della perla ionica, presentata con la legge sulla sanatoria, la seconda grande legge sulla sanatoria, la 724 del 94. Il lotempore presentata perché? Perché la fratelli Costanzo aveva un'esposizione con le banche che si aggirava intorno al miliardo e mezzo di lire, scusate, 1,5 miliardi di oggi, come dire, quindi 3.000 miliardi di lire, a fronte di un capitale sociale, di un capitale complessivo delle società che si aggirava intorno ai 3,5 miliardi di allora, 1.000 miliardi di allora, scusate. Quindi cercarono probabilmente di salvare questo perché volevano sanare alcuni appartamenti, con esistenza 130 appartamenti, esposti fronte mare. La società invece di procedere, la nuova società che si accaparrò all'asta il tutto, e quindi parliamo della ITEM, invece di procedere a saldare ai commissari liquidatori la cifra del 90%, fece rivivere il tutto e presentò queste sanatorie nuovamente e pagò una parte di queste somme. Alla fine tutto questo, mi ricordo, e chi c'era presente, si ricordano i consiglieri che allora erano presenti, siamo riusciti a bloccare questo cambio di destinazione d'uso, peraltro non previsto in zone territoriali omogenee turi, turistico-ricettive, dove non è possibile tornare indietro da strutture ricettive a civili abitazioni, e siamo riusciti a bloccare il tutto, se si ricorda. Paradossalmente però, questa operazione, dico però, per fortuna nei confronti delle ITEM, si bloccò quella asta e si andò con un ribasso a un'ulteriore asta, per cui, come diceva bene il consigliere Ferlito, nel 2014, la ITEM SRL se la riaccaparrò attraverso una nuova asta, ma con un abbattimento di 10 milioni di euro rispetto all'asta del 2009. Ovviamente, noi ci aspettiamo che la società possa completare i lavori di ristrutturazione. Da un punto di vista urbanistico, passo la voce in seguito al mio collega assessore addetto al ramo dell'urbanistica, perché mi sa che forse loro hanno presentato solo qualche richiesta di autorizzazione, ora sarà lui ancora più preciso, dal punto di vista commerciale, nel momento in cui dovesse essere pronta questa struttura, noi siamo ben lieti di ospitare l'Hilton nel nostro territorio, ma chissà quando potrà avvenire, perché le domande che lei ha fatto noi attendiamo delle risposte precise. Concludo solo con una, diciamo, qualche battuta dell'epoca, dove qualcuno si chiedeva come mai gli arabi che nel resto del mondo vanno a depositare denaro, qui avevano fatto una richiesta per vendere 130 appartamenti a una cifra che si aggirava intorno a 500.000 euro appartamento, perché siamo fronte mare, con un ricavato che si sarebbe aggirato intorno ai 65 milioni di euro, il Consigliere Seminata se lo ricorda, 65 meno ai 46 venivano in pratica non certamente a investire, ma sicuramente a speculare. Queste cose appartengono al passato, queste cose mi auguro che non avvengano più, perché siamo riusciti in quel momento a impedire certi percorsi, a noi quello che preme realmente la riapertura nel dovuto modo di una struttura che è stata il foro all'occhiello del nostro territorio e soprattutto la più grande struttura turistico-ricettiva del Sud Italia. Grazie. Grazie a lei, Assessore Oliva. La parola all'Assessore Fighiera. Prego. Grazie, Presidente. Consigliere Ferlito, solo per aggiungere rispetto all'iter e alle notizie che lei chiedeva in ordine alle eventuali pratiche che sono presenti all'ufficio urbanistico, su questo posso dire che la società ITEM ha presentato ormai diversi mesi fa una istanza di concessione riguardante la ristrutturazione di parte, di solo una parte del complesso per una ristrutturazione parziale di alcune palazzine. Questa istanza è stata riscontrata prontamente dall'ufficio urbanistica per la integrazione dei documenti e degli oneri concessori che devono essere pagati. Al contempo è pendente una richiesta esenzia dell'articolo 40 della legge 37 e 85 la nostra legge sul condono una norma che consente agli aggiudicatari di beni ottenuti a seguito di aste pubbliche quindi in procedure esecutive immobiliari o in procedure concorsuali quindi in fallimenti o amministrazioni straordinarie come lo è stata il gruppo Costanzo che consente di qualche modo una sorta di rimessione in termini cioè la possibilità di presentare anche a fuori termine un'istanza di sanatoria per quei volumi che risultassero non assentiti. Alcune istanze di sanatoria la società ITEM l'ha rinunciata ne ha fatto menzione l'assessore Oliva la ITEM nel momento in cui si è approcciata diciamo a questa attività di ristrutturazione una delle prime delle prime diciamo iniziative che ha compiuto è quella di saldare mi correggio se sbaglio uno dei debiti per IMU che aveva o ICI per il comune di Acireale comunque è stato versato abbiamo recuperato una parte da parte della RTA cioè della società che ha venduto per cui il comune di Acireale ha beneficiato anche diciamo di questa pronta cassa di questa pronta liquidità che l'RTA ha conseguito dalla ITEM attualmente ripeto non ci sono diciamo attività che l'ufficio urbanistica deve compiere se non a seguito di un'integrazione documentale che è stata richiesta alla società ovviamente rispetto alla fredda presentazione di un progetto che ovviamente sarà pur necessario integrare l'opportunità di un tavolo tecnico voglio dire che lei suggeriva potrà potrebbe riferirsi fruttuosa al momento in cui ovviamente da parte della società proprietaria del complesso c'è un nuovo interesse a risolte le proprie beghe con i propri subappaltatori o appaltatori di riattivare prontamente il cantiere che sembrava avviato a una celere ristrutturazione ma che oggi vediamo in totale stand by quindi il cantiere al momento è fermo quindi ci auguriamo come lo faceva l'assessore Oliva ma lo faceva lei stessa la sua interrogazione che questa iniziativa abbia un senso e che porti a una ristrutturazione del complesso edilizio in maniera celere per dare sviluppo possibilità di lavoro opportunità di lavoro a tanti giovani anche qualificati che ci sono nel nostro territorio che ci sono